Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Oggi è in vigore uno sciopero nazionale del personale di ferrovie dello Stato. Dalle 9 alle 17 i treni potranno subire variazioni. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!